Un caro saluto a tutti e tutte. Questa è una notizia strabiliante. Abbiamo già visto un cosmonauta affermare che la Terra è piatta. Si chiama Miroslav Ermazzewski. Qui lo vediamo ritratto in una fotografia in compagnia di un terra piattista. Mentre questa che vediamo è la pagina di Wikipedia in italiano, dove non c'è molto da leggere mentre su quella in inglese troviamo dell'altro. Ma vediamo l'intervista con i sottotitoli. Pan tam był. Czy Ziemia rzeczywiście jest kulą zawieszoną w kosmosie? Jest płaska. Tak jak oczekują. Nie spodziewałem się, co prawda do tego pytania, ale zapewniam Pana, że jest płaska. Generał Mirosław Ermazzewski, jak dotąd pierwszy i ostatni Polak, który odbył lot orbitalny, dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję za uwagę. E adesso vediamo dell'altro. Quello che segue è un cosmonauta sovietico il quale ha detto che non siamo mai andati nello spazio. Si chiama Igor Petrovic Folk, che vediamo qui in italiano sulla pagina di Wikipedia. Il signor Folk ha anche ricevuto la medaglia al valore come eroe dell'unione sovietica. Seguiamo la registrazione dell'intervista con la traduzione simultanea in russo. Ma trovate i sottotitoli in italiano. Ecco l'intervista. I nie wierza. Wierzy i jedzie i gierowie na Święcy Sowiecy, możemy da wierdę? Gierowie do Sowiecy Sowiecy mogą wierzyć wam. Wierzycie... 78%... ...swigł... ...że nie chcieć kosmonautów, że oni nie mówią o tym w kosmosu. A im mówię to nie czegoś nie mówi. Ja w etem... ...wierasz to, że w kosmosu, faktisk, nie byli... w i wierzyci na to, co to stało w kosmosu. non sapevano che non sapevano. Non siamo in cosmo. Se avanti toglie questo, non è veramente. Non è iniziata. Tava è la prima hipotesa, con la quale si è lavorato con la visione di sviluppo di spiegare la visione di Tocca che non mi piacciono. D'accordo. 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 D'accordo, quando gli sono gli episodi. D'accordo mi piacciono. Igor Petrovic, grazie a voi per il tuo spazio. Su questo canale YouTube avete anche l'incredibile raccolta di playlist su divisa per tematiche. Le playlist le trovate anche su indice alfabetico contrassegnate da questo indicatore. Sempre a disposizione il risveglio, a colori, solo nel formato ebook, ma nella versione cartacea è solo in bianco e nero. Su questo canale, come sul secondo, mi comporto esattamente nello stesso modo di come esercito il regime in autocarica. Viene eliminato qualsiasi commento che non rientra nella mia narrativa delle scoperte fatte come libero ricercatore. Ma non impongo nulla. Ognuno è libero di eseguire e ripetere quanto proposto e scoprire la verità, oppure di lasciare il canale e continuare a credere e crogiolarsi dentro il sistema di indottrinamento.